Cosa è la bellezza del rosario? Il rosario è sempre, almeno questa è l'esperienza di tanti, una preghiera difficile e impegnativa, ma allo stesso tempo un'orazione semplice. La bellezza del rosario si scopre sempre dopo averlo pregato. Esso si presenta sempre come qualcosa di impegnativo e ripetitivo, ma quanto più si va avanti si scopre che la semplicità della ripetizione e la profondità dei misteri immediati costituiscono la sua bellezza. In effetti, il rosario è un riassunto del Vangelo, il Vangelo in poche parole. Allontanare i pensieri vaganti è quasi impossibile, è molto difficile metterli a tacere, perché ogni giorno ne passano a migliaia nella nostra mente. Soprattutto quando cominciamo la recita del rosario, ci accogliamo del rumore dei nostri pensieri e ne diventiamo consapevoli. Non è il rosario che moltiplica i nostri pensieri, ma è attraverso questa preghiera che diventiamo coscienti della nostra distrazione. Ciò che è importante nella preghiera del rosario è imparare a praticarla. Non diamo importanza alle nostre distrazioni, alla frammentazione dei pensieri, ma solo concentriamoci sulla preghiera, sul mistero. Quando preghiamo, dobbiamo pensare alla persona a cui è rivolta la preghiera, alla Beata Vergine Maria. È lei che ci sta dinanzi. Non le servono certo le nostre cinquanta o cento Ave Maria, ma quelle servono a noi, e noi che ci distraiamo, che disperdiamo i pensieri. È attraverso la ripetizione che riusciamo a prendere coscienza che stiamo rivolgendoci proprio alla Madonna, perché la ripetizione serve solo a noi. La preghiera del rosario non è proprio necessaria alla nostra salvezza, ma è necessaria, importante per noi, perché è nutrimento per la nostra fede, per la nostra relazione. La preghiera del rosario è una preghiera mariana, semplice, ma è tutta concentrata su Cristo, così come la Beata Vergine Maria e tutta la sua vita erano concentrati su Cristo e dedicati a Cristo. Lei sicuramente ci conduce a Lui. Chi prega la Madonna attraverso Lei verrà sicuramente a Cristo e certamente lo incontrerà. Grazie Dio, grazie anche a voi. Che Dio vi benedica a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.